benvenuta e benvenuto a questa lezione in cui andremo ad affrontare gli aspetti chirurgici della patologia orale e nello specifico andremo ad esaminare quelli che sono le indicazioni per eseguire una corretta biopsia incisionale e una corretta biopsia escissionale che sono i momenti fondamentali in cui il clinico è chiamato a fare diagnosi non più solo clinica ma una diagnosi a questo punto chirurgica che permette la possibilità di andare a prelevare parte della lesione che poi dobbiamo capire come andare ad utilizzare e cosa andremo ad analizzare in questa in questa lezione andremo ad analizzare che cosa è necessario sapere che cosa dobbiamo fare e in che modo lo dobbiamo dire al nostro paziente perché poi quello è il punto fondamentale il passaggio della comunicazione delle informazioni al paziente e il perché noi stiamo andando a intraprendere un percorso che partendo da una diagnosi clinica prevede una tappa chirurgica ed è molto importante in patologia orale così come in tutti gli altri ambiti dell'odontoiatria andare a riconoscere tutta una serie di lesioni che per le quali al di là dell'aspetto clinico dobbiamo andare a dare una specifica da un punto di vista istologico in modo tale che si possa poi andare a definire in modo preciso quella che è la lesione che abbiamo davanti e quindi quello che è il percorso terapeutico che necessita per poter arrivare poi alla risoluzione. Qual è un altro obiettivo molto importante di questa lezione e di tutto il corso che vogliamo offrirti? La possibilità di avere attraverso le immagini che ti forniamo un'esperienza clinica di quelle che sono le lesioni che nella nostra pratica clinica abbiamo la possibilità di incontrare in modo tale che tu all'interno del tuo studio possa avere questo corso come un punto di riferimento per quanto riguarda le lesioni che incontri nella bocca dei tuoi pazienti. Un aspetto molto importante questo bisturi ti semplifica la vita da un punto di vista pratico ma non ha racchiuso in sé le informazioni per sapere dove devi andare a fare questa biopsia che invece te le abbiamo dette in precedenza e ci sono come ti ho sempre anche detto prima sono state descritte correttamente dal professor Lodi e dal dottor Franchini nelle lezioni precedenti. per lesioni più ampie che coinvolgono il margine linguale lo vedremo anche in un video integrale in cui viene seguita una biopsia di una lesione simile a quella che stai vedendo in questo momento cosa cosa succede invece nel momento in cui una lesione evidente in superficie è in realtà una lesione dei tessuti sottostanti è chiaro che in questo caso vanno analizzati diversi fattori va analizzato come si comporta la lesione sottostante al tessuto superficiale rispetto al tessuto superficiale stesso. In questo caso noi abbiamo un accumulo di tessuto che attraverso la mucosa appare di colorito giallastro. Tutto quello di cui vi ho parlato è assolutamente una procedura un esame molto semplice una procedura chirurgica molto semplice noi siamo abituati a fare dei trattamenti molto più complessi ma che solo un piccolo passaggio di un piano di trattamento di un inquadramento del paziente molto più complesso che parte con una diagnosi precedente all'esecuzione dell'intervento chirurgico e alla necessità poi di un qualcosa che viene dopo c'è una diagnosi definitiva e un follow up che completano poi completamente il quadro. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione vi ricordo di visitare il sito www.acapo-onlus.it